Di oggi, domenica 29 aprile, tanti auguri a tutti quanti, nel senso che buon fine settimana. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Va bene, partiamo dalla politica, l'incredibile politica che ogni giorno si trascina con una sua storia uguale a quella del giorno precedente. Almeno così sembra leggere i giornali, che però dedicano la politica a decine di pagine, decine di articoli, migliaia di righe. Ve le sintetizzo io in maniera semplicissima, perché questo in un giornale, secondo me, mio, ideale, si sarebbe potuto sintetizzare esattamente come la dico io, in dieci righe. Prima riga, il PD è alla ricerca del consenso tra i suoi elettori, nell'accordo eventuale con Movimento 5 Stelle, e il suo segretario reggente, in lite con Renzi, apparente lite con Renzi, vuole un referendum tra gli iscritti. La Lega, che sta arrivando al 22% secondo i sondaggi, quindi sta molto guadagnando proprio oggi che si va a votare in Friuli, Venezia e Giulia, ha chiesto la piazza se si facesse un governo che non le piace. Io non capisco la piazza contro chi, posto che il Movimento 5 Stelle è pur sempre il primo partito italiano con il doppio dei voti della Lega. Ma comunque vuole la piazza e con la piazza ci si avvicina anche la Meloni, che non vede l'ora di andare in piazza. Non bastano questi due aspetti, quello della Lega che cresce e quello del PD che si rompe, c'è anche ovviamente il centrodestra berlusconiano. Intervista di Berlusconi oggi sul Corriere della Sera in cui dice vogliamo un governo di minoranza. è una grande minoranza visto che quella del partito di Silvio Berlusconi rappresenta 4 milioni e mezzo, 5 milioni italiani su 60. Insomma un vero partito di minoranza. Inutile lettera di Di Maio oggi al Corriere della Sera che fa 4 pagine, sente Orlando, sente Berlusconi, sente tutti gli attori, ma sente soprattutto la noia nel leggerlo. Inutile lettera di Di Maio, un po' come l'intervista di Berlusconi per la verità, in cui in realtà l'intervista di Berlusconi è un'idea, cioè Berlusconi governa purché si governi, ma la stessa cosa vale anche per Di Maio che dice che col movimento di Renzi, non di Renzi ma di Martina, si possono avere dei punti in comune sul lavoro e la lotta alla povertà. Ci siamo, lavoro e lotta alla portata, pine, apple, apple, pen. Perché? Semplicemente e banalmente perché tutti vogliono più lavoro e meno poveri. Chi è che non è d'accordo su questi due temi? Ma vabbè, questi commenti è difficile farlo. Apple, pen, pen, pine, apple. Scioperano in 4, il Corriere della Sera con De Marco se ne accorge, e che cosa succede in questo sciopero con 4 che scioperano per le funicolari di Napoli, per esempio quella straordinaria che porta su Alvomero. sapete che succede? Che si bloccano tutte le funicolari, questo scrive De Marco oggi sul Corriere della Sera, 60.000 persone a terra per 4 scioperanti. Bene, in un paese normale non si fanno tanto i fenomeni, si toglie il diritto di sciopero, nel senso che si toglie il diritto di sciopero se sono delle minoranze a chiedere lo sciopero. Chiaro! Non è un paese sudamericano, non è fascismo, non c'è il diritto di 4 persone di tenerne 60.000 a terra. E' chiaro? Questo non è uno sciopero, questo non è un movimento collettivo, questi sono 4 egoisti che vogliono gli affari loro. Chiaro? Perché evidentemente non scioperano tutti gli altri per il disagio che questi 4 lavoratori avrebbero avuto. Ci vuole tanto a capirlo, divertitevi perché oggi è domenica, va bellissima l'intervista di Alessandro Ferrucci sul Fatto Quotidiano a Pappalardo. Ve lo ricordate quello di Ricominciamo? I suoi rapporti con Battisti, i suoi rapporti con il mondo dello spettacolo che non ha mai amato. Beh, sì Daniele, non lo so neanche io cosa sia l'esecutivo di minoranza, c'è un esecutivo che non ha i voti e li va a cercare tutte le volte in Parlamento. Ma comunque, intervista a Pappalardo, bellissima, lezione di piccolo giornalismo che io, voglio dire, darei se avessi qualcuno che vuole fare giornalista e mi seguisse. Fate come fa Ferrucci, le domande mezza riga, le risposte cinque righe. Non come vediamo su molti giornali, grandi e blasonati giornalisti che fanno domande di dieci righe e risposte del personaggio intervistato di due. Chiaro? Fate come Ferrucci. E come? Allora? Dopo? E lo spettacolo? Una conduzione favorosa, come leggiamo oggi nell'intervista a Pappalardo sul Fatto. Quindi abbiamo parlato di spettacolo, ma non quello più disgustoso che oggi io ho letto in una intervista a Staino. L'uomo che vi ricorderete è iscritto al PC, è stato direttore dell'Unità e dal suo pulpito, quello che prendeva in giro Craxi nel momento della debolezza, lo riconosce nell'intervista quando lanciavano le monetine contro Craxi, critica Crozza. E sapete perché critica Crozza Staino? Critica Crozza perché dice Crozza, si sa che uno del Movimento 5 Stelle ha simpatie per loro, ha esagerato con Serra. Serra è il giornalista che sull'Amaca della Repubblica aveva detto che il bulletto era chiaramente uno di una classe sociale bassa, perché essendo di una classe sociale bassa sono maleducati, eccetera. A parte che non era di una classe sociale bassa, ma questo razzismo di Serra, di cui abbiamo parlato tutti, bene, non è permesso nella satira di Crozza. Ed è, dice, Crozza è stato un bullo, e se ci sono i bulli è perché c'è Crozza e gente come lui che fa il bullismo della satira. Un talebano! Crozza fa propaganda e quindi tradisce la satira. Allora, a me va tutto bene, ma da che pulpito arriva questo discorso? Da Staino! Dal direttore dell'unità! Dall'uomo che mandava quel paese Craxi nel momento della nebolezza se la prende con Crozza perché Crozza attacca in maniera divertente l'amichetto di Staino, Serra, che scrive sulla Repubblica. Ma siamo impazziti! È esattamente il motivo per il quale questi signori di sinistra vivono nelle loro torri inutili! Va bene, Staino? Perché, caro Staino, perché non hai citato ad esempio la cosa, quella sì, davvero disgustosa fatta da Crozza contro il giocatore juventino in cui si era permesso questo ragazzo di dire che è stato per lui uno stupro il gol al 93esimo, una battuta infelice, ma che può succedere? Al quale Crozza risponde in maniera disgustosa! Guardatevolo che vorrebbe che un fallo gli arrivasse a lui in culo, in area di rigore. Bene, ha detto esattamente questo. Quello, forse, è disgustoso. Invece no, non viene citato. Crozza, diciamo, sempre sopra le righe ma nei confronti dello juventino ma nell'amichetto di Staino, Serra. Cioè, tra di loro se la raccontano e se la dicono. Quindi la satira cosa succede? La satira! Se è nei confronti di Berlusconi, dello psiconano, della moglie di Berlusconi, delle amanti di Berlusconi, delle ragazze di Berlusconi, va bene! Se è nei confronti di Renzi, dello schifo che... No, Renzi no, perché Staino era direttore del suo giornale. Mettiamo di qualcun altro che gli sa... Di Di Maio va benissimo! Ma invece, se è dei loro amichetti, la satira non è più satira, ma diventa propaganda. A me l'idea che Staino dica soltanto questa frase, e cioè che la satira diventa propaganda in bocca a crozza, mi sembra veramente la dimostrazione di come queste persone siano disoneste intellettualmente. A me quella satira fa schifo. Ma mi faceva schifo. Prima, altro tema di giornata... Altro tema di giornata è... Altro tema di giornata è la questione che riguarda la colf. La colf di Fico, cioè del Presidente della Camera, beh, è una storia straordinaria che hanno tirato fuori le iene. Io non so quanto ci sia di vero in questa storia di Fico e della sua colf, ma oggi ci saranno le iene e capiremo se effettivamente Fico paga in nero 500 euro una persona che fa le pulizie nella sua casa. Sarebbe straordinario. Anche un ucraino verrebbe pagato per fare dei lavoretti 700-800 euro in nero. Queste sono le... la nemesi, no? L'uomo che va a piedi, l'uomo che arriva al Quirinale, però magari i contributi pagali. No, si pagano i contributi ogni tre mesi, si pagano il 10, il trimestrale, alle colf, anche se fanno poche ore. Sono 340 euro, di cui una parte dovresti togliere anche al lavoratore. 80 euro, quindi ti costa 250-260 euro prendere una colf a ore e pagarle i contributi all'Inps. Come facciamo tutti quanti? Com'è normale farlo? O meglio, se non lo fai, non facciamo tanti moralisti, non facciamo... Allora, per la colf non pagata a ore, cosa avrebbe fatto Travaglio se fosse successo, non so, a Ranzi, a Berlusconi, a Renzi, che non paga la colf a ore e invece lo fa... la colf a ore non gli paga i contributi? E quello gli risponde, come gli risponde? Beh, è un'amica, si è la figlia della portinaia che abita accanto a casa di Fico e che incidentalmente viene così, ci scambiamo, ogni tanto viene a casa mia a fare qualche lavoretto. Ma chi ci crede? Ma chi ci crede? A me va benissimo, ma fai tutti i lavoretti che... Figuratevi, io sono per i voucher, sono per l'idea che ci si dia una semplificazione totale, ma nel mondo di quelli, lavoro, lavoro, onestà, lotta alla povertà, questa come la chiamiamo quando non paghi i contributi? Bene, nella lettera di Di Maio al Corre della Sera sulla lotta della povertà c'era il pagamento dei contributi che il vostro mantra per cui ci avete fatto due palle così per il lavoro in nero, la CGL che vota in massa ovviamente il Movimento 5 Stelle, è l'altra parte di Staino, cioè da una parte Staino dice crozza non fa satira ma fa propaganda, dall'altra parte il Movimento 5 Stelle, ma non solo loro, anche una certa sinistra diciamo intellettuale, ci hanno sempre raccontato l'importanza dei contributi, i datori di lavoro che sfruttano gli operai e tutti quanti e poi a casa loro i lavoretti se li fanno fare senza manco pagare i contributi, 2 C, 340 euro a trimestre, 340 euro a trimestre per 15 ore lavorate, va bene, 340 euro di cui 80 se proprio siete dei tirchi e li potete chiedere ai vostri lavoratori, non mi dite che il Presidente della Camera, il Presidente del Senato e voi tanti amici miei non siete in grado di pagarli, Giovanni Fiandacca stupendo, oggi sul mattino ci racconta della trattativa Stato-Mafia come fa da grande giurista quale è lui e alla fine ci si pone una domanda ma scusatemi ma anche e non è successo e non ne sono stati condannati per quello ma anche se avessero trattato Stato-Mafia che problema c'è? Qual è il problema se lo Stato si mette a trattare con dei criminali? E se lo Stato avesse trattato per il caso Moro come molti chiedevano? Sarebbero stati indagati il Presidente del Consiglio dell'epoca perché trattava con i criminali delle Brigate Rosse? Insomma, io trovo un pezzo favoloso come sempre quelli di Fiandaca attenzione poi ricordatevelo sono elementi importanti per il vostro bar quando vi racconteranno che l'Italia è un paese di mafiosi e di persone poco per bene le persone poco per bene sono queste piccole persone che attribuiscono agli altri grandi progetti e poi loro per primi sono dei meschini come nel caso di Saino quando dice che quell'altro fa propaganda è una cosa che proprio oggi non mi è andata giù condividete se vi piace questa zuppa nicolaporro.it come sempre per tutte le altre informazioni di giornata ciao e buona domenica a tutti